Passiamo al professor Salviati dell'Università di Padova che ci dà la sua esperienza di ricercatore in questo settore Allora, io sono un genetista clinico per cui oltre alla parte più di laboratorio, tra l'altro siamo supportati dal Teleton che per noi è essenziale per continuare le nostre ricerche ho anche la parte di clinica di cura quando possibile o comunque di diagnosi di questi pazienti e volevo parlarvi oggi delle difficoltà che ci sono nel avere a che fare con pazienti con patologie rare il fatto di avere patologie rare fa sì che siano poco conosciute poco conosciute e e quindi spesso la diagnosi è difficile non solo perché a volte è difficile avere il sospetto clinico ma anche perché avendo il sospetto clinico spesso non sono disponibili se non su base di ricerca e all'estero quindi con notevoli difficoltà i test genetici per andare a confermare quello che è il sospetto noi se facciamo una diagnosi prima quando vediamo i pazienti ci viene in mente cosa il paziente può avere allora per confermare poi richiediamo un test ma spesso questi test non sono disponibili questo nei prossimi anni cambierà perché la tecnologia ci sta mettendo a disposizione tutta una serie di nuove tecnologie di macchinari per fare la diagnosi diventa sempre più vicino il momento in cui sarà possibile sequenziare l'intero genoma di un individuo a prezzi accessibili e quindi nel sospetto di una malattia genetica di fatto una diagnosi in tutti i casi o quasi il problema però di queste nuove tecnologie è che ci forniranno una enorme mole di informazioni che sarà estremamente difficile da interpretare qui viene un primo nostro filone di ricerca che è stato in questi anni di sviluppare dei modelli semplici per andare a verificare la patogenicità o meno delle varianti che vengono identificate dagli test genetici cioè che quando troviamo qualcosa di anomalo in un paziente verificare che quello sia effettivamente la causa della malattia e non una variante priva di significato clinico questo è un primo filone che abbiamo sviluppato dopodiché noi ci occupiamo anche della ricerca per trovare la terapia di alcune di queste forme e noi siamo fortunati perché nella nostra malattia la curiamo già per cui da questo punto di vista stiamo cercando di migliorare adesso la terapia il deficit di coenzima Q è molto semplice basta dare il coenzima Q due parole perché questa è una malattia molto molto rara sono poche decine i pazienti noti in tutto il mondo ed è una malattia che colpisce il sistema nervoso centrale quindi il cervello i muscoli e in alcune forme il rene ed è una malattia che se non è sospettata e trattata immediatamente porta a morte o comunque a gravissima disabilità mentre se si ha il sospetto clinico e quindi si inizia la terapia terapia che è semplicissima perché con enzima Q è un supplemento che si può comprare al supermercato in alcuni paesi si compra al supermercato da noi in farmacia dando questa sostanza sì il paziente è come dare acqua di l'urdo sostanzialmente questo è il paradosso che ogni tanto a comunicare una cosa di questo genere l'abbiamo pubblicato sul New England per cui era una battuta ho le foto del trattato non trattato su questo non ho dubbi c'è abbastanza non ho mi sbilancio di solito non mi sbilancio ma su questo sì il problema però qual è di questa forma è che e questo è un esempio di come è la situazione difficile in questa patologia ci sono pochissimi pazienti per cui è difficile fare dei trial terapeutici quindi verificare le varie forme del farmaco che possono essere utilizzate e trovare un dosaggio ottimale quindi il tutto viene fatto in maniera empirica noi siamo fortunati perché abbiamo già qualcosa che funziona ma per altre forme che sono in cui non c'è ancora una terapia attualmente funzionante diventa molto molto complesso poi oltretutto la possibilità di usare un farmaco in questo momento è molto vantaggiosa perché perché gli altri approcci stanno venendo sviluppati quindi le cellule staminali e la terapia genica ma in questo momento siamo ancora indietro quindi quello sarà il futuro la possibilità di una terapia farmacologica è risolutiva di una terapia farmacologica che è una terapia farmacologica